The Empress, la nuova serie Netflix. La vera storia, della principessa Sissy. Le vicende della principessa Sissy, hanno sempre appassionato milioni di persone, in tutto il mondo. Sono state tante le serie e i film ispirati, alla vita della principessa. Ora sta per vedere la luce The Empress, la nuova serie targata Netflix che ricostruirà, la vita di Elizabeth vista soprattutto, dal punto di vista dell'amore e della vita controcorrente, della giovane imperatrice. Su Netflix, sta per arrivare nel catalogo The Empress. Si tratta di una serie televisiva che parla, della principessa Sissy e ricostruisce la sua vita, non basandosi tanto, sulla storia dell'imperatrice, ma della donna che con i suoi comportamenti, riuscì ad anticipare i tempi moderni. Nella serie, la storia comincia proprio dall'incontro, tra Elisabetta Amalia e Eugenia, di Wittelsbach, conosciuta come Elizabeth, ma soprattutto come Sissy, e Franz, l'imperatore d'Austria. Tra i due nasce subito, una bellissima storia d'amore che sconvolge, tutta la struttura di potere, della corte viennese. Entrambi, infatti, ma soprattutto la ribelle Sissy, sono pronti ad andare, contro le regole. Elisabetta e Franz riescono a sposarsi, ma da subito Sissy, che diventa imperatrice, si trova costretta ad affrontare la suocera, ma anche Sophie, assetata di potere, ed il fratello di Franz, Maxi. Che vorrebbe avere il ruolo di Sissy, e che al contempo è innamorato di lei. Quando le truppe nemiche, si assiepano ai confini dell'impero asburgico, iniziano le proteste contro l'imperatore, ed è Sissy a prendere in mano la situazione. Faticando per comprendere di chi può fidarsi, e come conquistare la fiducia del popolo. Sullo sfondo c'è sempre la storia d'amore, tra Elisabetta e Franz, mentre la stessa Sissy farà il possibile, per difendersi dagli attacchi degli altri, e mantenere il posto che ha conquistato. Uno sguardo viene rivolto anche allo stesso Franz, un imperatore che ha avuto un ruolo, molto importante nella storia, e che ha potuto in un certo senso, plasmare l'Europa. The Empress è ormai attesissima, e coloro che hanno accesso a Netflix, non vedono l'ora di vedere, una nuova ricostruzione della vita di Sissy. Secondo quanto è trapelato, fino a questo momento, la serie sarà disponibile nel catalogo, entro la primavera del 2022. salvo eventuali slittamenti. Invece, è stato confermato che The Empress sarà composta, da soli sei episodi e di conseguenza viene definita, una miniserie. I protagonisti sono stati scelti già, da diverso tempo e, sebbene non si conoscano ancora, i nomi del cast completo, si sa già chi vestirà i panni, dei due personaggi principali, Elisabetta e Franz. Si tratta infatti d'Evrim Lingnau, e Philip Frossan. Per quanto riguarda l'attrice protagonista, Lingnau è già nota al pubblico, ed è apparsa per la prima volta, di fronte ad una telecamera alla giovanissima età, di 16 anni. Da quel momento, ha avuto una serie di ruoli importanti, nel mondo del cinema e della televisione, tra cui anche nel lungometraggio inglese Camilla, e nell'adattamento del romanzo Our House. Philip Frossan, invece, ha intrapreso da poco la strada della recitazione, ed ha preso parte ad un'altra serie Netflix. Infatti è apparso diverse volte in Isola Nera, il thriller del regista, Miguel Alexandre. La showrunner Katarina Eyssen, insieme ai suoi cosceneggiatori Bernd Lang e Jana Nanzik, ha dichiarato che racconterà la storia commovente di Elisabeth ad un pubblico giovane, e contemporaneo. Tutti si sono detti onorati, di lavorare a questo progetto, che viene registrato, in varie parti dell'Europa. Non si conoscono, però, ancora le precise ambientazioni. Voi che cosa ne pensate? Vi affascina l'idea, di una rilettura in chiave più moderna, della storia della principessa Sissi, e credete che guarderete The Empress? A voi i commenti.